Il primo consiglio sia come vigile del fuoco che come genitore è quello di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Anche se ci sono dei rivenditori che emettono sul mercato, dei fuochi che sono comunque autorizzati anche ad un'età inferiore ai 18 anni, io personalmente mi permetto di consigliare di tenerlo comunque lontano dalla portata dei bambini innanzitutto e quando questi ultimi dovessero comunque aver voglia di usarli sempre in presenza di un adulto. Altro consiglio che mi permetto di dare, questo lo dico perché spesso ci è capitato su interventi, di tenerlo comunque lontano dai luoghi in cui solitamente si vive. Noi abbiamo trovato dei fuochi d'artificio in ripossigli, nelle vicinanze dei caminetti. Queste sono delle cattive abitudini che bisognerebbe togliere per la salvaguardia di tutti noi.